Mi sono trovato presso il comune di Salerno con diversi amministratori locali, diversi sindaci e ci raccontavamo a vicenda, si è aperto l'argomento al capitolo commercio e ci raccontavamo a vicenda cosa dicevano i commercianti di noi e posso dirvi che è uscito un quadro identico, cioè quello che viene detto a Salerno città, viene detto a Valore Lucania, viene detto ad Agropoli, viene detto a Sarno, forse una città che ancora regge meglio e forse cala dei tirreni come tessuto commerciale, però vi ho detto di comuni in cui le lamentele giuste dei commercianti sono le stesse, Salerno è una città, non è diverso da Agropoli, le lamentele del commerciante del centro cittadino di Salerno non sono diverse da quello del centro di Agropoli, anche lì si parla di uno spopolamento, lì si parla di negozi chiusi, anche lì si parla di movita che non funziona, quindi io credo che il problema sia strutturale. E' da qualche anno che il commercio per i negozi sia diventato sempre più difficile, i commercianti si sono trovati in poco tempo a perdere clientela in favore di grandi centri commerciali che sono sorti nella provincia, ma anche in favore delle commerce, dove i prezzi degli articoli sono per la maggior parte delle volte più economici. Gli esercizi commerciali fanno fatica e di conseguenza ne risente anche l'economia della città. Agropoli non è stata risparmiata da questa evoluzione del commercio e i commercianti agropolesi ormai risentono particolarmente questa situazione in cui quotidianamente fioccano la mentele nei confronti di chi amministra questa città, additando magari le difficoltà che incontra il commercio del centro alla ZTL, ai barchi elettronici o all'isola pedonale nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Ma il sindaco Adamo Coppola ha una visione differente della situazione. Per il primo cittadino agropolese il vero problema del commercio in città è la quasi totale mancanza di proposte da parte dei commercianti per migliorare la situazione di difficoltà che stanno vivendo. Noi riempiamo la piazza, ecco si parla della visione della piazza, noi riempiamo anche a febbraio con il carnevale, non per me la situazione del carnevale, riempiamo la piazza perché la riempiamo, no? La piazza Vittorio Veneto. Quali le proposte dei commercianti per il carnevale? Quali i loro contributi per il carnevale? Risulta che gli organizzatori del carnevale hanno chiesto anche dei contributi ai commercianti della piazza e risulta che non ne abbiano ricevuto. Non mi pare di aver visto nella Notte Blu o nelle scorse edizioni del carnevale sconti e idee particolari. Così parla il sindaco Adamo Coppola ai nostri microfoni che si è mostrato totalmente disponibile nel poter valutare le proposte dei commercianti. C'è bisogno di sinergia, conclude il primo cittadino. Se dobbiamo reagire a cinque centri commerciali importanti, dobbiamo farlo insieme con politiche di collaborazione sul commercio. Ma se non ho l'interlocutore, con chi ne discuto? Ora, ogni sindaco, ogni amministrazione cerca una ricetta per salvare evidentemente il proprio comune. Però il problema è strutturale, quindi il nemico non è tanto il sindaco o l'amministrazione, ovviamente il nemico sono i grandi centri commerciali e il commercio online. Insomma, dobbiamo reagire in maniera diversa, ma ben vengano da parte dei commercianti proposte. L'unico dubbio che io ho è che fino ad ora non sono arrivate moltissime proposte.